Musica Buongiorno e bentornati a TG2 Costume e Società. È l'ultima moda in discoteca. I ragazzi indossano gli Starlight, ovvero stick fluorescenti normalmente utilizzati da chi fa immersioni subacquee. Il fenomeno arriva da Ibiza ed è probabilmente destinato a diffondersi. Se pare che a ciascun colore corrisponda un significato particolare. L'uccele colorate in pista. Al buio è un tripudio di stick fluorescenti, gli Starlight, ultima frontiera del divertimento. Nei locali alla moda si organizzano gli Starlight Party. È tipo un Fluid Party, si può fare il Fluid Party con il liquido fosforescente e con i braccialetti si chiama Starlight Party. È un nome da dare una serata, una serata a tema. È un party che poi si è visto molto in Ibiza piuttosto che in Grecia e quindi noi l'abbiamo riportato in Italia perché alla fine sta diffondendo molto come fenomeno. È una cosa che piace ai giovani, piace ai ragazzi e poi si tengono anche il gadget e se lo portano via. Ma sai di che cosa sono fatti? Perché fanno luce? Dovrebbero essere delle lucettine fatte a led. Penso sia mercurio, non lo so. Molti dei teenager che tengono questi cilindri di silicone in bocca o li mettono al polso, al collo, in testa, sulle orecchie, praticamente ovunque come accessori fashion non ne conoscono nemmeno la composizione. Acqua ossigenata e di fenilo sanato per innescare la reazione chimica della fluorescenza, potenzialmente tossica. Ma non hai paura che sia tossico in bocca? Non sai niente. Si dovrebbe rompere, insomma, è difficile romperli, insomma. Basta ranclinarli, si illuminano e basta. Insomma, se dovessi mettere un po' di coraggio a romperli, dai. È pericoloso, una volta a me mi si è rotto in bocca. Infatti la lingua mi ha... Mi ha dato particolarmente dei problemi. Se non lo sciacquata con il ghiaccio e poi con l'acqua. Inizialmente lo stick è opaco, ma basta piegarlo e muoverlo per attivare la reazione chimica. Così, questi bastoncini luminosi, utilizzati dai subacquei per le immersioni notturne, nella pesca o come segnalazione di emergenza, sono diventati ornamenti che i ragazzi usano per lanciarsi messaggi a seconda del colore. Li scelgono apposta all'entrata di certi colori, apposta, perché poi queste cose nascono magari più su internet, che magari si scambiano informazioni e quindi arrivano già preparati. Anche i più timidi possono dichiarare i loro gusti senza bisogno di parole o dell'approccio diretto. Con le avanzi va a colpo sicuro. Se indossi la luce blu stai cercando un individuo di sesso maschile, se sfoggi quella rosa vuol dire che gradiresti la compagnia femminile, col giallo se hai bisex. Ma non è così per tutti. No, non lo sapevo. Bene, buona sapersi. I colori hanno tutti un significato. Il rosa è il colore che piace più alle ragazze. Uno cerca di prendere il rosa proprio perché è il colore che piace di più. E tu che colore hai scelto e perché? Eh, perché mi è capitato questo. Con lo Starlight sui Morchia. Con lui no. Quattro Starlight per Marzia. Sai che vuol dire? Vuol dire che Marzia questa sera vuole quattro fidanzati. In alcuni locali gli Starlight vengono distribuiti all'ingresso o regalati in pista, ma procurarseli è facile. Ci sono negozi del centro che li vendono a un euro. Si trovano fra gli articoli per la pesca e su eBay. C'è perfino un web discount specializzato in prodotti Glow che annovera gli Starlight tra i gadget più richiesti. E il passaparola scatta tra i ragazzi. I gestori colgono il loro input e la moda dei segnali fluo che stuzzicano l'immaginario spopola nelle discoteche della capitale dell'Interland. Si vedrà se è destinata a diffondersi e durare o a spegnersi come gli stick quando dopo 24 ore al massimo il frutto della chimica svanisce. E la luce delle città inquina i cieli, ma ci sono zone in cui il buio è ancora fitto. Per proteggerle c'è chi ha deciso di mapparle, misurando così la qualità del cielo. E alla mappatura possono partecipare tutti. Un cielo così, di notte, ormai si vede di rado. Troppa luce sale dalle città e nasconde le stelle. Effetto dell'inquinamento luminoso, inevitabile prezzo del progresso. Ma c'è chi vuol proteggere le aree dove il buio più fitto esiste ancora. Primo passo, mappare la qualità del cielo in Italia. Il progetto di misurarla è partito da due ingegneri ambientali poco più che trentenni. Strumento principale è lo Sky Quality Meter, prodotto in Canada. Basta puntarlo verso il cielo notturno, premere un pulsante e registrare il dato che appare sul display. Il cielo, in base alla quantità di luce che viene sparata dalle città vicine, si illumina più o meno. Questo strumento ha una scala che diciamo all'incirca va da 16 a quasi 22. 16 è un cielo molto inquinato, quasi 22, 21,9, 21,8 è un cielo molto buio. Ma l'astrofi lo ha fatto di più inventando un congegno che collega il buiometro a un computer. Ha questo prototipo di stazione fissa, che per ora non è molto fissa, la stiamo portando un po' in giro. Abbiamo montato questo strumento sul tettuccio della macchina, per esempio siamo andati in giro per la maremma a fare delle misure, un paio di notti. Per creare la banca dati della qualità del cielo, Andrea e Francesco sono andati in giro per la penisola. La mappa ha preso forma, le zone più buie sono segnate in blu, quelle più luminose in rosso. Una delle aree in cui sono stati registrati i risultati migliori è proprio la maremma, patria degli ingegneri. Uno vive a Milano, l'altro a Bologna, ma il ricordo del cielo della loro maremma li ha riportati tra Siena e Grosseto. Qui è nato il progetto di educazione ambientale esteso a chiunque voglia partecipare. Per questo si chiama buiometria partecipativa. Lo scopo è anzitutto avere dei cittadini che hanno un'informazione in più piuttosto che una in meno. Finora abbiamo trovato solo tre persone in Italia che hanno detto che il nostro progetto è ridicolo. Erano sulla miata di notte del signore, le abbiamo spiegato e si sono messe a ridere. Tutti gli altri sono interessati, ci chiedono ma fammi capire la scala, capire anche le dinamiche, i motivi per cui può essere più o meno buio e quindi ci possa essere più o meno inquinamento luminoso. Reclutati da prima amici e conoscenti come Andrea, il barista di Torniella, frazione di Roccastrada in provincia di Grosseto. Ha capito come funziona lo strumento? Sì, sì, ho capito. Abbiamo partecipato già nell'ottobre 2008 a questa cosa, quindi sì, so già come funziona. È venuta fuori da un rapporto amichevole, la cosa può essere trasformata in qualcosa di più interessante. Oilo, vigile urbano. Hanno incuriosito da questa cosa e ho deciso di partecipare. Abbiamo fatto alcune misurazioni che, pur non essendo un buio completo per i nostri posti, hanno dato degli ottimi risultati. E la voce si è sparsa insieme alla voglia di andare a caccia del buio, facendo previsioni sulle sue misure. Secondo me è stasera per la 22, 22 sì. Secondo me la verità è sempre nel mezzo 20. Secondo me è buio, 21 è buio. Ilo, Beppe, Gianca e io ci conosciamo. Siamo sulla via del buio. Quanto legge? Da nord a sud, anche tramite internet, chiunque faccia richiesta del buiometro può ottenerlo gratuitamente, restituirlo dopo aver registrato i dati, aggiungendo così un puntino colorato alla mappa dei cieli d'Italia. L'idea ha avuto così successo che persino Topolino le ha dedicato una storia introdotta dal volto di Francesco. L'inquinamento luminoso si potrebbe ridurre con impianti di illuminazione a norma. Pochi sanno che non è solo uno spreco energetico, ma ha effetti dannosi sul ciclo vitale di pianti e animali notturni, alterandolo, e può provocare insonnia e disfunzioni ormonali anche nell'uomo. Si può cominciare col prenderne coscienza e capire che poter guardare le stelle non giova solo al romanticismo. E meno luce significa ovviamente una migliore osservazione del cielo, ma c'è un problema. Dalle Canarie alla Sardegna, dal Sud America all'Arizona, gli astronomi italiani che sono al lavoro sui telescopi più potenti del mondo hanno a disposizione, oimè, fondi sempre più risicati. Tra le parabole di questo enorme telescopio, James Bond, ancora una volta, salverà il mondo. Più difficile è riuscire a salvare i ricercatori italiani che qui, allo Salvatore Paranal, nel Cire, ci lavorano. Mancano i fondi, lamentano dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, e i nostri studiosi, impegnati in una delle più importanti strutture della Terra, rischiano di tornarsene a casa senza aver scoperto nemmeno una piccola cometa. Costruito nel cuore del deserto, scelto per la sua secchezza, l'abbondanza di notti serene e la lontananza da fonti luminose, il Very Large Telescope è un sistema di quattro parabole ottiche separate, che possono funzionare tutte insieme sommando la loro potenza. Un progetto faraonico costato ben 500 milioni di dollari. In realtà quella del Paranal è soltanto una delle numerose collaborazioni internazionali che, dicono gli astrofisici, potrebbero saltare se nel 2010 non verranno stanziati altri 30 milioni di euro. Una cifra non indifferente, soprattutto se si considera che per l'anno in corso lo stesso istituto dispone già della bellezza di circa 92 milioni. Ma la ricerca costa e così gli astrofisici italiani rischiano di fare bagagli anche dal Large Binocular Telescope in Arizona. Qui sono circa una decina e connazionali al lavoro, impegnati in una partnership internazionale con americani e tedeschi. Questo è il più grande telescopio ottico infrarosso al mondo, capace di arrivare nelle profondità più remote del cosmo. Una vera e propria istituzione per ogni astronomo che si rispetti. Ma anche in Italia, a quanto pare, osservare le stelle nel 2010 non sarà semplice. Qui siamo in Sardegna, dove la costruzione del radiotelescopio più sensibile d'Europa, durata 5 anni, è finalmente terminata. Una parabola di 64 metri, mille pannelli di alluminio, 67 milioni di euro per realizzarlo. Un gioiello di tecnologia nel cuore dell'isola, che adesso rischia di non entrare mai in funzione. Perché, denuncia l'Istituto Nazionale di Astrofisica, mancano i soldi per gestirlo. 3 o 4 milioni di euro che proprio non si riescono a trovare. Un paradosso per una struttura all'avanguardia che studiosi di tutto il mondo vorrebbero avere a disposizione. Perfino Internet si è mobilitato. La struttura e l'appello della rete deve assolutamente diventare operativa. Anche il fiore all'occhiello dell'astrofisica italiana e il Telescopio Nazionale Galileo alle Canarie potrebbe presto fermarsi, dicono gli astronomi, per mancanza di soldi. In questa struttura lavorano circa 30 ricercatori, che qualche anno fa, grazie alla meravigliosa parabola di cui dispongono, hanno scoperto il corpo celeste più lontano dell'universo. Insomma, a sentire l'Istituto Italiano di Astrofisica, l'Astronomia Nazionale rischierebbe una semi-paralisi. Ma il dubbio rimane perché i fondi per la ricerca sono pochi ed è normale che gli studiosi di ogni settore facciano a gara per accapparrarseli. E così la domanda sorge spontanea. È vera emergenza o provocazione per battere cassa? Grazie.